Dopo la tua telefonata. Mi risulta che tu non sappia cosa sia il rispetto. Di certo non l'hai avuto per betto. Ah, questo non è vero. E pare che la sincerità non sia il tuo forte. Che dice la polizia? Per una volta ha concluso qualcosa? Sì, li hanno trovati. Morti. Un paio di tossici. C'era il loro DNA in casa nostra. Hanno usato i soldi che ci avevano rubato per spararsi un overdose. C'è una cosa che dovresti sapere. Aspettava un figlio.